Gli ostacoli per un ritorno a scuola in presenza al 100% sono molti, a partire dai trasporti forse il nodo più importante, ma se questo non bastasse, ci sono delle distanze da rispettare, le aule attuali non sono abbastanza capienti e i docenti che, se non verranno nominati, non basteranno di nuovo. In tutto questo scenario si inserisce anche la questione della sanificazione dell'aria, dopo quanto espresso dal provveditore agli studi di Arezzo Roberto Curtolo e in un'intervista sulla stampa locale in merito ad una circolare ASL che sconsigliava l'installazione dei sanificatori dell'aria nelle aule, arriva la replica del presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai. Gli impianti che installeremo nelle aule delle scuole aretine non sono quelli a cui fa riferimento la circolare e sono sicuri per la salute dei nostri studenti. All'ITIS intanto si sta lavorando per un prototipo che potrebbe superare queste problematiche. Noi nella nostra scuola lavoriamo anche assieme ad alcune aziende del territorio per portare avanti la questione perché recentemente siamo entrati in contatto con un'altra autorità scientifica a questo riguardo che è il professor Giorgio Buonanno e con lui abbiamo convenuto una strategia da adottare nella nostra scuola e poi magari la riproporremo anche altrove. L'aria è un veicolo di contagio, i cosiddetti aerosol che sono paragonabili a dei fumi di sigaretta sono il veicolo principale in ambienti chiusi del contagio. Quindi l'aria deve essere cambiata, deve essere cambiata in funzione della capienza, dei metri cubi di aria di ciascuna aula, mettiamo più o meno 120 metri cubi per aula immaginando un'aula di 40 metri quadrati, l'aria deve essere cambiata più volte durante un'ora di lezione Per questo, diciamo così, occorrono degli impianti che abbiano questa capacità di aspirare e contestualmente di purificare l'aria e metterla sterile. Dal nostro punto di vista conviene non tanto adottare dei sanificatori ma quanto prelevare l'aria dall'esterno, purificarla e poi utilizzarla all'interno delle nostre aule e questo, fra l'altro, servirebbe anche, diciamo così, in funzione antiallergica perché poi i pollini, i polveri, diciamo così, provocano anche le allergie dei nostri ragazzi quindi potrebbe essere un investimento di lunga citata e piuttosto interessante.